Oggi parliamo di un cambiamento significativo nel mondo della pubblicità e del marketing legato ai grandi brand. Chiara Ferragni, una delle influencer più note al mondo, ha perso il contratto di testimonial con Pantene, noto marchio di prodotti per la cura dei capelli. Chiara Ferragni era stata il volto di Pantene dal 2016, ma recentemente il marchio ha deciso di non rinnovare il contratto con l'influencer italiana. Al suo posto, la scelta è caduta su Havimond, modella israeliana, che nonostante avesse sognato una carriera in criminologia, si è fatta strada nel mondo della moda dopo essere stata scoperta a Londra all'età di 16 anni. Havimond ha lavorato per alcuni dei più grandi nomi della moda, come Chanel, Armani, Yves Saint Laurent, French Connection, Laura Ashley e Asos. Curiosamente, molti sui social hanno sottolineato una certa somiglianza fisica tra Mond e Ferragni, entrambe bionde con gli occhi chiari, il che ha aggiunto un po' di sale sulla ferita per i fan di Chiara. Questo non è il primo contratto importante che Ferragni perde negli ultimi tempi. Dopo il cosiddetto Pandoro Gate del 2023, la sua immagine commerciale ha subito un duro colpo, portando alla fine della collaborazione con altri grandi marchi come Safilo, Pigna e Coca-Cola. Nonostante ciò, Chiara Ferragni rimane una delle influencer più seguite al mondo, con oltre 29 milioni di follower, anche se ne ha persi circa 200.000 recentemente. Chiara si trova attualmente a Los Angeles, dove sta cercando di rilanciare la sua carriera. Ricordiamo che la sua ascesa nel mondo del fashion blogging e dell'influenza digitale è iniziata proprio all'estero, grazie al grande successo del suo blog The Blonde Salad. Cosa ne pensate di questa svolta nella carriera di Chiara Ferragni e dell'ascesa di Javi Mond come nuova testimonial di Pantene? Ritenete che Chiara riuscirà a recuperare il suo status nel mondo del fashion e del digital marketing? Lasciate i vostri commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale Flash Trendita per non perdere i prossimi aggiornamenti su questo e altri argomenti. A presto! Grazie a tutti!